La curva epidemiologica continua ad aumentare, si teme che possano esaurirsi posti letto, com'è la situazione? Allora, noi abbiamo un aumento di casi positivi nella nostra regione, aumenti di contagio, quindi un'attenzione costante e continua. Abbiamo riunito quotidianamente le unità di crisi per valutare a seconda dei pazienti, a seconda dei positivi. Ad oggi abbiamo una situazione sotto controllo, qualsiasi paziente ha ricevuto le giuste cure appropriate e quindi volta per volta stiamo modulando quella che è la nostra organizzazione del sistema sanitario regionale. La regione sta valutando anche ulteriori misure oltre a quelle nazionali per placare la curva dei contagi? No, ulteriori misure oltre a quelle che abbiamo dato ieri, il presidente Marsiglio ha firmato proprio un'ordinanza in prossimità delle festività, del ponte dei morti e quindi è importante portare avanti invece quegli indirizzi e quelle disposizioni che sono state date da quelle ordinanze perché vanno ad evitare tutti quei momenti di assembramento e tutti quei momenti in cui ci può essere maggiore contagio.